Beh, che dire, svegliarsi con una sveglia del tutto particolare è una novità a Trieste perché di solito mi sveglio con una musichetta fastidiosa, no? La sveglia Stavolta era ancora più fastidiosa e stavolta una cosa preoccupante Mi hanno svegliato gli spari, visto che abito a pochi metri dal luogo dell'accadimento e non è una bella cosa Se anche a Trieste, una città che di solito è stata sempre tranquilla da questo punto di vista dobbiamo incominciare a preoccuparci per sparatorie chi lo sa per quale motivo, rese dei conti, affari loro e io dicendo, insomma, c'è da preoccuparsi, veramente Speriamo bene